E what's up a tutti ciurmo e benvenuti da giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Ed eccoci qua di ritorno su questo meraviglioso gioco ragazzi La volta scorsa alla fine quindi siamo riusciti ad entrare nel laboratorio che stavamo cercando Il punto è che il laboratorio era completamente abbandonato Quindi le luci non c'erano più, se ne erano andati tutti La zona comunque era diventata ormai pericolosa E quando abbiamo deciso di andare via per spostarci in un'altra città Ci hanno aggredito ragazzi ovviamente dei banditi E in una colluttazione purtroppo Joel si è ferito gravemente Da quel momento non abbiamo visto più nulla Ci hanno fatto giocare, stiamo ancora giocando nei panni di Ellie Che era andata a caccia, fatto sta che si è ritrovata faccia a faccia con due sconosciuti Io sto ancora chiedendo se possiamo davvero fidarci del tutto Hanno promesso di darci delle medicine in cambio di un po' di carne La carne purtroppo è andata bella che perduta ragazzi Perché abbiamo dovuto abbandonare il cervo a causa dell'attacco di vari infetti E quindi adesso non ci resta che scoprire se possiamo davvero fidarci o meno di questi strani Ed eravamo arrivati qua, quindi stiamo ancora cercando effettivamente di uscire Qua c'è della roba tra l'altro, cioè non appena arrivo già mi danno qualche materiale Quello che stavo dicendo è che effettivamente Quello che ho notato ragazzi è che mi stavano dando parecchie O perlomeno mi hanno dato parecchie Oh cazzo Parecchie Che fai amico? Aspetta Parecchie munizioni Parecchia roba ragazzi per costruirmi Ecco vedete? Non me so sbagliata Aspetta che arrivo Aspetta, oddio 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 Regà, 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 fermi Cazzarola Oh, non mi aspettavo sta roba Mi dovete dare un attimo per Cioè per essere pronta Che è tutta sta aggressione incredibile? Mamma mia li faccio saltare Ma perché li prendi a pugni? Io ho capito che forse vorrei risparmiare munizioni amico però Cioè manco ci possiamo far mangiare vivi così Ok allora raccogliamo assolutamente ragazzi Oddio perché l'ho fatto salire i colpi qua dentro Ok Sei pronto amico? Sei pronto? Oddio Ok Ok, ok Con calma Calma e sangue freddo Ragazzi non facciamoci prendere subito Oddio pure Non facciamoci prendere subito dal panico Anche se la cosa può essere parecchio difficile Mi servono altri colpi Assolutamente Cerchiamo di raccogliere tutto quello che troviamo Lo vedo E dov'è il tipo? Ah è così qua Oddio mi ha salvato le chiappe Mi ha salvato le chiappe ragazzi Dobbiamo cercare di usare anche un attimino Oddio Usare un attimino le bombe quando è possibile Oddio che è? Madonna santa Che è? Mamma mia rega Li sentono appertutto Che incubo è? Oh Madonna santa Allora questi ovviamente i morti avranno rilasciato qualcosa Miau Eh E te pareva? Troppi Eh non fermarti Oddio no la bottiglia non me ne faccio un cacchio della bottiglia Mamma mia rega Greve 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 la situa Grevissima grevissima ricarica Oddio cazzo aiutiamolo Eh Oddio Attento Ho sentito un clicker Oh cazzo eccolo Eh C'è l'altro di qua Ma che è? Oh Oh l'ho mancato Ah Sparali Mannaggette Davvero fantastico Ok mi hanno fatto ripartire dal mezzo ragazzi Almeno questo voglio dire È positivo ovviamente E mo' devo ricaricare no? Con calma Andy Con calma Che palle Oddio aspetta 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 Eh Fermo un po' Oh sto per morire tra l'altro Oh cavolo Oh cavolo Oh cavolo Oddio Via clicker Via 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 clicker Via Ci sto provando ragazzi Ci sto provando davvero con tutta me stessa eh Però porca vacca Porca vacca regà porca vacca Dov'è l'amico? No ma non posso mancarlo così Mannaggia Grazie grazie È così però Fammi attenzione Ok ne arriva un altro Da dove arriva Oddio lo sento Lo sento Lo sento Non t'avvicina Oddio l'ho mancato L'ho mancato È tutto molto Molto divertente per me Però io non sto ridendo Ma porco Vinci No vabbè regà Io non ho parole Fatemi di che non ho parole Perché cioè come cazzo faccio A farmi colpì così come una deficiente Eh aiuto amico Oddio gli ho sparato a lui Insomma Avrebbe tipo dovuto morire now Tipo proprio in questo esatto momento Però io ho un medikit Ma che cazzo Credo che presto inizierò seriamente ad arrabbiarmi ragazzi Non vorrei dire Ho dei medikit Sì Sto per iniziare ad arrabbiarmi Sì però Spara agli amico Cioè No vabbè regà Io non ho parole Cioè ma in ogni stracazzo di momento Che devo sparare Devo ricaricare Sta cazzo di arma Regà Regà Ma dai Mamma mia Ma è una cosa terribile questa È terribile Mamma mia Ma devo morire di nuovo Vogliamo vedere Curati per carità di Dio Che fino ad ora non l'ho fatto Da brava idiota Oh cavolo No 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 Pure lui No Te le picchi del culo Le spore È bello No vabbè regà Ragazzi Posso dire veramente Che non ho parole E ci mancava pure Il grosso rotto in culo Per la miseriaccia Allora proviamo a lanciare Subito questa ragazzi Vediamo che succede Ok Non credo di averli fatto Chissà cosa Ma Oh No 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 Spara amico Mannaggia santa Cioè non solo il Il gigantone Ah eh Ok Regà Regà Parlamone No seriamente Parlamone tutto Eh Eh Ah Beh Già 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 Sì sì Dopo dieci volte Tipo che c'è Provo Eh Sono stupita Che siano già finiti Davvero Davvero stupita Oddio Regà Non mi fate commentare Meglio Meglio Non dire niente Che famo Usciamo da qua No Che guardi amico Mamma mia Eh Niente infetti Niente infetti Che ti dicevo Il cervo comunque Ancora lì dentro Eh Eh Infatti Infatti È ancora lì Io direi che si può Provare a recuperare Te la sei cavata Piuttosto bene Là fuori Direi che Siamo un'ottima squadra È solo fortuna Fortuna? No No Questa non è fortuna No Sai Credo che tutto accada Per un motivo Certo Davvero E posso dimostrartelo Vedi In che senso Quest'inverno È stato particolarmente duro Qualche settimana fa Ho Mandato un po' di uomini In città per Cercare del cibo Ne sono tornati pochi Han detto che gli altri Erano stati Massacrati Da un Pazzo assassino E senti questa Quel pazzo Sembra Vagi Con una ragazzina Vedi Tutto accade Per un motivo No Non agitarti Non è colpa tua Sei una ragazzina James Giù la pistola Col cazzo Non la lascio andare Abbassa La pistola Questo qua È uno stronzo Dalle le medicine Come dalle le medicine Sai che agli altri Non piacerà Sì Ma non è un problema Tuo Lavati dalle palle Sto capendo Tenetevi pure il cervo Piuttosto Ma vaffanculo Eh scusa Io posso proteggerti No No grazie Mamma mia Regà Mamma mia Io pensavo Stessimo Per vedercela Proprio brutta Oh madonna Ancora il batticuore Porca vacca Andiamo via 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 Mamma mia Regà Pensavo davvero Sto tizio Sto tizio Stesse venendo in mente Di prenderla O robe simili Anche se Non mi sembra Un tipo Che fa Andar via Così Le persone A cui vuole Farla pagare Perché il tono Che aveva Era proprio il tono Di uno Che vuole farla pagare A chi ha ucciso I suoi uomini Cioè Joel Però lui ha detto Non è colpa tua Tu sei solo una ragazzina Ergo Ce l'ha Con Joel Che come sta Non sono riuscita A prendere molto cibo Ma Ho preso questa Sposta il braccio Minchia regà Speriamo Scusa Ecco Fatto Minchia regà Sta gonciato Malissimo Poverino Ce la farai Minchia regà Cioè Di sicuro aveva Una grossa infezione Aveva la febbre Cioè Era cadaverico Vabbè ovvio L'ha ricucito Forse come meglio ha potuto Ecco Qua Mi hanno seguito Mi sarebbe Sembrato strano Il contrario Ragazzi Infatti a me Continuava A puzzare la cosa Li porterò Quindi ci dobbiamo affidare Di nuovo A A Ellie Ovviamente Il punto è che Questi non vogliono Lei Vogliono Lui Ho seguito Lei Per prendere Lui Oddio Regà Mi sa che ci tocca Veramente Oh 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 Eh Hai sentito Oh Oh Via 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 Vattene Pezzo di merda Oddio Oddio Ma quanti sono Regà Oddio Cioè Un esercito Che cavolo Merda Sta scappando Non vi prenderete Bastardi Oh Via Bastardo Molla Molla Vai Via Quello che mi chiedo è Cosa potrà fare Comunque Lì Adesso si scappare A tirarli lontano Però Cioè Se dovessero trovare Joel Maledetti No Che palle Che palle Regà Cioè Hanno ucciso Callus Era ancora lui Bastardi Che cavolo Mo voglio proprio Ridere Regà Cioè Ci sarà Da ridere Eh No Intanto Prendiamo Tutto Tipo Tutto Tutto Quello che troviamo Perché Sta situazione La vedo Bella spinosa Ok Quindi Nulla Alcol Tutto La tipa La tipa Dell'università Chi è la tipa Dell'università Non voglio correre Dio 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 Regà Io Non ho la minima idea Ora Di come regolarmi Perché comunque Dovremmo cercare Ovviamente Di svegnarcela Oddio Non ci posso credere Senza che mi becchino E ovviamente L'attimo dopo Oh porca L'attimo dopo Mi beccano Maledizione Ma No vabbè regà Questa è stata Una cazzata Eh Questa che fa Assolutamente Niente Approccio Sbagliatissimo Proprio Sbagliatissimo Perché In casi come questo Regà Lo stealth Purtroppo È fondamentale Quindi vediamo Di non induggere Troppo Cerchiamo già Di avanzare Sono stati ammazzati Laggiù Ok Proviamo ad avanzare Ragazzi Anche se Comunque Sono tipo Dappertutto Cioè Sono un furtio Questi pezzi Di merda Quindi io Cerco di Avanzare Continuando Qua davanti Ma Non so Se è la strada Giusta Poi facciamo Attenzione Perché È là in fondo E li Li vedi Sono grossi Sono lì Che ci aspettano Quindi passiamo Da qua Regà Oddio Spero veramente Che non mi Becchino Ecco Mi sono chiusa Qua in bagno Davvero Meraviglioso Non mi serve Altro Posso uscire Da qua Sì Allora Facciamo il giro Da qua Oddio Qua ce n'è uno Io proseguirò Di qua Non so Se è la strada Giusta Mi auguro Ovviamente Di sì Incrociamo le dita Sperando che nessuno Ci becchi Anche se La vedo La vedo dura Ragazzi La vedo dura Perché Sono veramente Tanti Porca vacca E sono praticamente Dappertutto Non è Non è Non c'è La ragazzina Non c'è Continuate a cercare Di là No Ma che sfida No regà Ma ditemi voi Se non è sfiga Questa Ditemi voi Se non è sfiga No regà Rido 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 Tantissimo Rido Tantissimo Rido Muoviti Elli Mannaggia Santa Regà Che situazione Di cazzo Cioè Giusto In quel momento Si doveva Affaccia A quel Bastardo Io giusto Da qua Dovevo Passare Ha fatto Abbastanza Ridere Perché Hanno Sparato Praticamente A qualsiasi Cosa Tranne Che a me Tranne All'ultimo Momento In cui Elli Non ha Deciso Di muovere Le chiappe Mamma Mia Che ansia De tutto Veramente In ogni caso Era di qua Che devo Venire Non so Se di qua Ce ne saranno Altri Altri Simpaticoni Che mi Aspetteranno Che cazzo Ce devo Fa io Mannaggia Mi devo Pure Togliere In mezzo Sta cosa Ci siamo Muoviamolo Un po' Regà Ok Ci basta Spostarlo Un po' Così Dovrebbe Bastare Ok Vediamo Un attimino Se adesso Possiamo Passare Ok Adesso Possiamo Ma la brutta Sensazione Che ci saranno Altri rompipalle Qua fuori È la via del ritorno Resisti La via del ritorno Il problema È che Secondo me Comunque Regà Qualcuno Là C'è rimasto Non è che Se sono messi Tutti quanti A inseguire A lei C'è ripeto Quello che voleva Il tipo Era Joel E te pareva Lo sapevo Io lo sapevo Vabbè Proviamo a passare Da qua dentro Vediamo un attimo Oddio Vattene là Vai via dal cazzo Vattene via No regà Non me becca Non me becca Non me becca Non me becca No vabbè regà Parlamone Parlamone seriamente Mannaggia santa Mo' m'avete rotto I coglioni E Abbassati Ellie Che cazzo fai Mo' m'avete rotto Le palle E vai No regà E vai E vai Chissà quanti altri Ce ne stanno Che ci stanno Aspettà E mi sono rimasti Solo tre colpi Ma non me posso Fabbricare niente Niente di Incredibile Allora Medichitta Assolutamente ragazzi Perché comunque Ci potrebbe servire E un'altra bombare queste Magari Pure i molotov E i molotov Me le scordo sempre Ma in effetti Potrebbero essere utili Ah bene Andiamo Allora Ne abbiamo fatti fuori Almeno qualcuno Regà Ne abbiamo fatto fuori Perché veramente Mi hanno rotto Le palle Quindi Vediamo di avanzare Anche se Come si esce di qui Dovremmo usare questo Immagino No Uno di sti cosi Ma dove lo appoggio Ah aspetta Aspetta Ferma Molla un attimo Molla 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 Aspetta Perché copriano Sta St'apertura Qua dietro Fatemi vedere Un attimo Regà Molla un po' Cosa abbiamo Qua sotto Non voglio restare Intrappolata Qui Eh lo so Ellie Cioè Non è che Ci fa tutti piacere Restare qua Però La situazione Di merda Si dovrà affrontare In qualche modo No Ok Quindi comunque Dovamo passare da qui Infatti Non è che fuori Ci fossero altri modi Per Per andare L'uscita 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 Eh suppongo Di dover passare Di qua ragazzi L'unica porta Con cui possiamo Interagire Allora Altra robetta Buona Vediamo Che altro C'è di interessante Sembrerebbe Nulla Ma Vaffanculo Minchia Come l'abbiamo Fatta vedere Bastardo Maledetto Proviamo a scappare Regà Vediamo un attimino Se Di qua Mo M'avete rotto Mori Bastardo Mori Sì 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 Pagherò Pagherò Certo Anche tu Mamma mia Che ansia Che ansia Che ansia Allora Usciamo Forza 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 Ellie Un po' de forza Un po' de forza Strattona Spintona Oh no 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 Ti sto salvando la vita Ecco Ecco fatto Ma che minchia Ma che fai Che cazzo fanno qua Come ti senti Vuoi che ti ci mangi Uno splendore Tieni Io quello Non lo mangio Non me la mangio Io quella roba So che hai fame Sei rimasta qui Un bel po' Che cos'è È cervo Con contorno Di carne umana No No Te lo giuro È solo cervo Mamma mia Regà Sei un cazzo di animale Un giudizio un po' affrettato Visto che voi avete ucciso Quante persone? Non ci hanno dato scelta E pensi che noi l'abbiamo Vero? Uccidi Per sopravvivere Anche noi Dobbiamo preoccuparci Dei nostri Con ogni mezzo necessario E quindi ora? Mi taglierai In tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no Dimmi il tuo nome Sono stronzo patetico Al contrario Sono stato Piuttosto onesto con te Ora penso sia il tuo turno È l'unico modo Per convincere gli altri Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea Hai cuore Sei leale E sei speciale Non mi toccare Scusa Che cazzo vuoi? Non so che Oh caro Stupida Mocciosa Così mi rendi sempre più difficile Tenerti in vita Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ellie Cosa? Di loro che Ellie è la ragazzina che Ti ha rotto un dito stronzo Come avevi detto? Eh? Piccoli pezzettini Ci vediamo domani Ellie Mamma mia regà Ellie Ecco Ovviamente quindi Adesso Toccherà a Joel Toccherà a Joel salvarla Ellie ha Salvato lui E adesso lui deve salvare lei Ovviamente Il punto è Come sa Dove andare Cosa fare Dove cercarla Che situazione di cacca ragazzi Dove diavolo sei? Eh È proprio questo il problema Joel Allora Il punto è che Speriamo Ovviamente Che Non le facciano Qualcosa di male Nel frattempo che Joel arriva lì E Speriamo ragazzi Però ripeto Il tizio Ce l'ha con Joel Non con lei Però Lei ovviamente ragazzi Ha un bel caratterino E quindi Non è che sta tanto Al suo posto Per cui al tizio Potrebbero anche Girare Le palle Quindi No Eh no Eh no Eh no Eh no Non mi dovete rompere I coglioni Perché io già c'ho male Sono Dolorante Sono sofferente E Ellie è scomparsa Quindi Non mi dovete rompere I coglioni È chiaro il concetto Oh E dai È Oh dov'è Sto per morire Tra l'altro Direi di curarci Ma Tra l'altro Che fa Oddio Oddio A correre Regà Non lo so Oh Pezzo di merda T'ho già preso Ma ti guardo un po' Oddio Bisogna avere gli occhi Un pochettino Da tutte le parti Ragazzi Perché I bastardi Sono dappertutto Allora Dobbiamo vedere Di aggirare Questo filo spinato Ricarica un po' Chi c'è dall'altra parte? Non tanto vicino Perlomeno così Sembra Possiamo passare da qua Mi sa ragazzi Allora Non cambierò l'accetta Per la spranga Perché la spranga C'ha comunque Più slot di utilizzo Eccoli là Ma Se facissimo Tipo un bel falò Però me dovrei avvicinare Un bel falò Eh bastardi Ecco Se ne sono scappati in tempo Pezzi di merda Va bene Vabbè Vengo a prendere Ti vengo a prendere Fifoni di merda Se la squagliano Che c'è? C'avete paura De Joel Mani de ferro? Fate bene Ecco Vabbè 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 Che ti c'è L'ho un buco in pancia Non vorrei farmene in altro Parla cazzo Dov'è? Provaci 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 Tu aspetta qui Sta fermo lì Buono buono Che adesso parlo con quest'altro La ragazza Dimmi È viva Che ragazza? Non so di nessuna ragazza Cazzo Ehi guardami Guardami Te lo stacco questo ragazzo di ginocchio La ragazza È viva È il nuovo giocattolo di David Dove? Dove? In città In città Ora me lo indichi sulla mappa E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico Segnalo È lì cazzo Puoi controllare Chiedilo a lui Chieditelo Te lo dirà Non sto mettendo Non sto Vaffanculo cazzo Ti ha detto quello che volevi Eh no Non so niente di più Ok va bene Mi credo No aspetta Sveglia sveglia Cazzo Lasciami Dai Basta Smettila Oddio Ti avevo avvertita Sono infetta Sono infetta Davvero E ora anche tu Guarda lì Tirami sulla manica Perché l'ha morso Guarda lì Starò al tuo gioco Come che hai detto Tutto accade per un motivo Vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata Non è vero A me sembra più che vero Cazzo Amorso Merda Grido tantissimo Minchia raga Pure Ellie Pure Ellie C'ha due palle grosse Così ragazzi Ok Oh Meglio correre Oddio No no Eh vado Me ne vado Me ne vado Di certo Non voglio Non voglio stare qua A farmi squartare Da te Merdaccia Che non sei altro Via Oddio Andi Oh Ellie Eh che cavolo Ti devo di più volte Ad abbassarti È tanto semplice Mi sa che conviene Stare attenti Ragazzi Perché Noi non abbiamo Pistole Oh cazzo Eh non possiamo andare qua Dobbiamo passare Forza d'acqua Andiamo 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 Sempre con calma Comunque nella bufera Cioè non dovrebbero Riuscire tanto facilmente A vedermi Almeno mi auguro A meno che non ce ne troviamo Proprio uno di fronte Proviamo a salire Eh Ellie Se lo sapessi Oh cazzo Oh cazzo Oh Oh Accoltella un po' Ok Questo meglio farlo fuori così Sì sì Anche voi Mi sa Aspettate soltanto Che arrivi Joel Mannaggia santa Vi farà Le chiappe a striscia A tutti Perché corrono Che succede Ok vabbè A noi poco importa L'importante Oddio L'importante è riuscire ad andarsene Ragazzi Basta Oddio che bello Una vecchia sala giochi Che figata Riusciamo ad andarci Oddio Mannaggia Oh Minchia scoppio ritardato Amico Scoppio ritardato Ok Non abbiamo accoppiato Ma Oh cazzo No regà Mo Mo Oh no 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 Non posso No No Non posso Sopravvivere a lungo Così eh È proprio Oddio regato Dove vado Eh tesoro Vorrei saperlo anch'io tanto Dove andiamo Passiamo di qua Allora Eh mi sa proprio di sì A parte c'è che Continua di questi E non c'è un medikit Ovviamente Non posso crearmene C'è un tiro a di questi Sono dappertutto Ragazzi eh Entriamo qua Oddio Non mi piace sto posto Facciamo piano C'è qualcuno Possiamo Possiamo uscire Mi sa che non c'è nessuno Ok Ok vediamo un attimo Andiamo Eh Dio no Bastardo A fare che? A fare che cosa? Non importa Eh? Oddio no regà Non puoi scappare Oddio no Vuoi uscire? Vieni a prendere i chiavi Oddio So che non sei infetta Sì sì Nessuna persona infetta Si danna così Per rimanere in vita Non c'ho bottiglia Non c'ho mattoni Non c'ho niente Non ho Non ho nessun diversivo Quindi mi sa che Devo semplicemente Girarlo Per un istante Hai messo in crisi La mia fede Ma solo per un istante No sta tornando indietro Se non ne spiega questa Regà Mannaggia Mi sa che devo Prenderlo alle spalle Davvero? Eh Me ne faccio un cazzo Per sapere che Non ne sprecheremo Nemmeno un pezzo Pezzo di merda Prova a dire qualcos'altro Sul mio cavallo Bastardo Sei stato in gamba piccola Tutto bene Regà Questa è l'ennesima Ennesima riconferma Che non ci si può affidare Di un cazzo di nessuno Questo è poco ma sicuro Ok Stiamo attenti Stiamo attenti Dimmi che non passa giusto di qua Che fa? Passa o non passa? Ok per il giro di là No regà E dai Ma stava andando di là Oddio Questa Ok Proviamo adesso No Ho fatto rumore Ma ci sono i piatti qua Ma questa È una bastardata Così faccio rumore Se ne accorge Ops Ok Piano 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 Lo possiamo prendere comunque Lo possiamo prendere Vaffanculo però Sì scappa Sì scappo infatti Ok Adesso si accuccia anche lui Un esperto dello stealth Ma che ha fatto Si è bloccato Non ci credo Si è bloccato Regà si è bloccato Approfittiamo Ok Dobbiamo aspettare Il prossimo episodio Per vedere Effettivamente Cosa sta per succedere Joey riuscirà Ad arrivare in tempo Succederà Qualcos'altro Di inaspettato Di brutto Spero sinceramente Di no In ogni caso Questo video termina qui Come sempre Aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Grazie a tutti Un bacione Obdoscio a tutti ragazzi Da giocherina Ciao Ciao